Amore e morte, vivere con buon senso nell'era del coronavirus. Il discorso che segue sarà scandito in due fasi. La prima si concentrerà su questioni di fondo, la seconda su dati interpretati relativamente al loro immediato contesto politico. Essere o non essere, questa è la questione. Rivelarsi o d'accettare la fatalità, la morte. Una questione che emerge al cuore del discorso dominante di questa nuova era del coronavirus. Esploriamo la questione per non esserne travolti, per essere finalmente, senza pertanto esserlo follemente. Ci si dice di ascoltare una casta di esperti ufficiali, ancora prima del buon senso, del sensus comunis. Questi stessi esperti dichiarano che siamo entrati oggi in uno stato d'emergenza, anche di guerra, che ci impone la necessità di dar credito assoluto ai dettami della casta degli esperti ufficiali. Occorrerebbe, insomma, se non discreditare, almeno ignorare il buon senso. Spieghiamoci meglio. Se i nostri esperti dicono che piove, mentre guardando fuori dalla finestra constatiamo che il cielo è limpido, occorre imperativamente concluderne che il cielo si sbaglia, ossia che noi non siamo qualificati ad avere un'esperienza diretta delle cose, un'esperienza che ci consenta di prendere in mano le ridini delle nostre azioni. Dunque, occorre affidarsi al giudizio degli esperti che medieranno il nostro rapporto con la vita quotidiana, quel cammin di nostra vita che il buon Dante già ci invitò a riscoprire come proprietà comune. I nostri esperti diffidano della poesia dantesca, ritenendola irrilevante al modo in cui occorre vivere oggi. Se Dante ci aveva richiamati ad un discorso fondato sull'amore, i nostri esperti ci dicono di dar credito ad un discorso fondato sulla paura. E seppure Dante sarebbe d'accordo che a volte solo la paura può liberarci dal gioco dell'aviltà, permettendoci così di amare, bella lezione tra l'altro che ritroviamo nella quinta giornata del Decamerone di Boccaccio, oggi si incita alla paura perché ci si ricada dentro, sbramati da una lupa dantesca, e certamente non per riscoprire l'amore, perché la paura di massa di oggi non è diretta, non perviene faccia a faccia con la resizza, ma rimane assolutamente mediata e strumentalizzata ideologicamente. Oggi troviamo intere popolazioni in balia del mantra della paura, inoculata nell'ottica distopica di una libertà moderna, naufragata nel narcisismo, vittima di se stessa, si comincia a vedere tutto attraverso la paura. Il discorso dominante travolge folle di libertini, prede vulnerabili, incapace di vivere al di là della paura, di amare senza paura, di essere liberi senza paura, di essere senza dover sembrare, di essere al di là di ogni impostura. Paura di cosa? Di perdere la nostra fragile libertà, una libertà che allora forse non ci appartiene, noi, sudditi del discorso dominante, quello di padroni che hanno scelto per noi, ancora prima che sapessimo dar ascolto alla ragione. Una falsa ragione si è imposta, una ragione anti-umanista che ci condanna a disprezzare la morte come un non senso abominabile, come un orrore privo di alcuna ragione. Se si muore, se lo spettro della morte bussa alle nostre porte, il discorso dominante ci averte che occorre rifugiarsi nel suo oppio, sperando che la notte passi prima che ci si debba risvegliare. La notte malvagia, la notte della poesia, del pensiero che disturba la corrente dell'informazione omogenizzata ed omogenizzante. Occorre dormire per non doversi risvegliare mentre tutti gli altri dormono. Occorre abbandonare la poesia, il Dante che si sveglia all'imbrunire. Tale un si dartano strano allora che gli animali che sono in terra si danno per vinti. Perché la poesia sarebbe un non senso, un'illusione da abbandonare in nome della paura. La paura che instilla in noi la lupa, discorso immondo che rende ogni autorità tirannica, ogni leone, una minaccia. Oggi la lupa, forte dello strumento tecnologico mondiale, trova un'occasione preziosa per convincere i suoi sudditi a rinunciare alla loro presunta libertà in nome di una nuda sopravvivenza, una sopravvivenza in balia della paura di morte violenta, del non senso, perché l'aldilà della libertà è concepito ateisticamente come nemico, offesa al pudore pubblico, fonte d'ogni male, così come d'ogni virus. Ed è appunto un virus che oggi la morte ci invia e che il discorso dominante condanna perché noi non si debba pensare, vivere, amare, come anche soffrire onestamente volti verso l'aldilà della nostra cecità, di quel mondo di illusioni nel quale ci illudiamo di essere mentre trovandoci non siamo, non riusciamo ad essere, perché restiamo persi nell'impostura, l'impostura dell'essere. Il discorso dominante lo ha annunciato, questo virus tra milioni di virus, l'unico però che è nominato. Essere qui significa essere nominato. E ciò che il discorso dominante non nomina, necessariamente non può essere. Né l'influenza che tra il 2016 ed il 2017 causò la morte di circa 25.000 persone in Italia, né le 84.000 morti annue per inquinamento atmosferico, né tantomeno le decine di migliaia di morti a causa di errori medici, dati che si possono, si devono dimenticare per poter far entrare i soli nominati, quali tasselli di un puzzle in un disegno prestabilito, un disegno fuori del quale nulla può essere, nulla salus. Tale è la logica equina dalla quale Lius Strauss ci invitò a distrarci, come dalle tenaglie di un incubo morboso nel quale non affidarci al dettame ufficiale equivale a sprofondare nell'avviso del non senso di quella morte il rifiuto della quale costituisce il fondamento della nostra libertà ultramoderna. «Essere o non essere?» ci invitava a chiedere il buon Shakespeare suggerendo che l'essere necessita una ribellione rispetto al quietismo lassista, al fatalismo dello stolto che accetta la vita come una condanna a morte. Eppure no, ribatte il socratico, la vita non è una condanna ma un dono da ricondurre alla morte. E se questa ci parla attraverso un microscopico virus ascoltiamolo, questo virus straniero portavoce della morte che ci oltrepassa, che oltrepassa la nostra libertà furtiva, secolare. Ma non lo ascoltiamo, non lo sentiamo neppure, la sua voce, il suo timido sospiro sommerso, schiacciato dalla bufera che impera contro di esso perché non ci si spinga mai ad esplorare il senso della morte, la morte che ora non parla. non ci parla, ben inteso, nella misura in cui non lo sentiamo, saturi come siamo dello rumore, del braitare assillante ed assordante dello strumento massmediatico. Questo ci vuole paurosi, afflitti dal timore sconcertante, terrore assetato di vite umane il quale ci induce a rinunciare ad ogni pretesa di libertà. la libertà è male, anche il peggiore dei mali. Tale il messaggio che gli esperti dell'impostura massmediatica attribuiscono vociferatamente al virus, il virus che ci vorrebbe confinati, invitandoci ad abdicare ogni luogo pubblico, ritirandoci negli infimi recessi di gabbie private, cellule gestite sistematicamente dal padrone mediatico, perché la sua egemonia non sarà consolidata finché il padrone non sarà riuscito a definire i suoi sudditi entro i parametri di un laboratorio sociale, di uno stato, sito di sperimenti, di ingegneria sociale ad oltranza. Vedete, avremmo potuto discorrere oggi a partire da fattori tecnici, dati da interpretare in una maniera o d'un'altra. Ho preferito non farlo perché l'arte dell'interpretazione è malata, affetta da un pregiudizio di base legato al dominio della lupa dell'impero che si esercita sull'impopolo. I dati servono continuamente alla sua causa. La corrente dei dati ci attira nelle fauci della bestia inesorabile, inarrestata solo affinché noi ci affidiamo ad essa. senza ancora nel giudizio antico che per Dante si mostra nella persona di Virgilio ribellante di un antico spirito che dice no, esultante fin anche al cielo dell'imperatore dell'universo. I dati meritano poco spazio rispetto al problema fondamentale della paura perché lasciarsi dominare dai numeri che la giostra mediatica fa giravoltare senza sosta in una turba orgiastica degna di un baccanale infernale. Da dove sgorgano le parole vere, il discorso affidabile che possa salvarci della paura, non dallo strumento omogeneizzante che vuole negarci ogni accesso diretto al dominio pubblico in quanto tale, tutto ci si dice immediato e tale deve esserlo a patto che non ci si voglia annullare nel baratro del non senso. Occorre, ci si fa intendere, affidare agli esperti ufficiali ogni dato perché lo digeriscano per noi e lo rigurgitino per noi, tali degli oracoli permettendoci di nutrirci dei frutti della morte senza dover voltarci verso di esse. Il discorso dominante ci porge i dati quali strumenti di allontanamento dalla loro fonte. I dati quali li riceviamo mediaticamente ci dirigono verso il sogno di un'eternità ephemera. Ogni dato compare come una distrazione, indizio necessario a sfuggire alla morte costruendo un mondo senza morte, il mondo migliore del quale saremmo gli artefici incontrastati se si volesse credere alle predizioni dei nostri istigatori al progresso universale. Se si ritorna qui al senso della nostra paura questo è perché non si cerca di cambiare il mondo causa fortunatamente persa ma perché si cerca di illuminarlo causa perennemente aperta. come agire oggi? Alla domanda rispondiamo mossi dal desiderio dall'amore non dalla paura ma ciò è possibile solo là dove il desiderio non soccombe alla paura là dove il desiderio è ancorato ad una verità al di sopra dell'effibro. Se seguissimo tale desiderio porgato della paura udiremmo la voce della ragione del logos senza storpiarlo per farne un uso a lui alieno lo ascolteremmo senza chiedergli di nasconderci dalla morte. Questa madre è inevitabile fonte di vita ancor quando ignota. Ora questa ragione non alienata dalla morte ci nutre nel seno del buon senso del sensus comunis il buon senso privo di supporto non è sufficiente ma una ragione che gli contraviene è molto più del dovuto. La vera ragione eleva il senso comune non lo raggira per distruggerlo per dirla con il buon vico la filosofia per giovare al genere umano deve sollevar e reggere l'uomo caduto e debole non convellergli la natura né abbandonarlo né la sua corruzione. Ci serve aiuto dunque resta a vedere da dove o da chi. Sostenuto dalla libera ragione il buon senso ci suggerisce qualche spunto di riflessione rispetto al percorso imposto all'Italia in risposta al virus la quarantena nazionale. esaminiamo la strategia con un buon senso abdicato dal discorso ufficiale dal momento che per esso il senso è buono solo se non è fondato sulla ragione ma sulla paura irrazionale non sulla paura di un dio razionale ma su quella di un'esistenza tirannica. Quanto al buon senso discreditato dal discorso ufficiale quello fu ridotto ad un rottame ancora prima di essere stato sostituito dalla volontà della classe dominante. Il governo italiano attraverso i suoi strumenti di informazione di massa nonché il suo braccio esecutivo sta rapidamente distabilizzando gran parte delle attività private del paese in anticipazione di un massiccio intervento statale visante la ripresa delle attività sotto un più stretto controllo dello Stato. Tuttavia vista la dipendenza radicale del governo italiano da politiche globaliste il controllo dello Stato italiano va inteso non come conquista di autonomia nazionale ma nel contesto di una manovra internazionale di confinamento certamente non principalmente fisico ma politico morale di popoli moderni dalla sfera pubblica ciò comporta un'alienazione sempre più viscerale dei popoli dalla libertà già vissuta peraltro e per la più parte virtualmente in privato o nell'accezione libertina della libertà la libertà presa d'assalto dalle quarantene nazionali è una libertà terribilmente fragile incapace di resistere alla paura fomentata dalla classe dirigente questa usa strategicamente i dati forniti dai suoi esperti per terrorizzare i popoli del mondo al fine di persuaderli in concerto ad accettare una sorta di colpo di stato internazionale che consoliderà il progetto del governo mondiale l'unico capace di gestire popoli che altrimenti rischierebbero di divenire ingestibili considerando la loro concezione libertina e dunque essenzialmente antinomica della libertà gestire popoli libertini richiede una manovra a lampo da parte della classe dirigente una manovra di guerra capace di fulminare la coscienza dei popoli atterrandone l'arroganza con la sola guida che il libertino sia capace di comprendere il terrore facente leva repentina su dati provenienti dall'Italia approfittando forse del picco di morti prima che si giunga ad un declino naturale il governo statunitense sta dando prova esemplare di maestria nella gestione del suo popolo persuadendolo della necessità che il governo prenda possessione di una fetta considerabile della libera imprese o meglio della sfera pubblica in cambio della salvezza del popolo minacciato da un virus straniero comparabile alle peggiori delle pesti si insinua in questo contesto che quasi l'1% della popolazione del paese potrebbe morire di coronavirus dichiarando che la nazione è ora in guerra contro niente meno che la morte stessa la morte dunque nella fattispecie di una violenza inudita dovrebbe spingerci naturalmente nelle mani della classe dominante solo grante della salvezza di milioni di innocenti il terrore qui è forza unificante del popolo nel terrore il popolo si riconosce uno sotto un solo salvatore e dal momento che il nemico è concepito tale per il mondo intero e non solo per una nazione tra le altre il salvatore del popolo sarà quello del mondo ossia la classe dirigente della mondializzazione unificatrice di tutti i popoli non a caso il presidente degli stati uniti ha sottolineato il gran numero di nazioni coinvolte l'unificazione fa la forza niente di più ovvio con tutto ciò il buon senso non è sorpreso peraltro dal silenzio assoluto vigente dal podio del discorso ufficiale sul nesso tra divagare di infezioni polmonari e il consolidarsi della mondializzazione industriale le morti attribuite ad un virus straniero sono morti di popolazioni estremamente fragili fragili nel corpo non meno che nello spirito drogati in entrambi i rispetti intossicati in entrambi i casi vulnerabili di fronte ad un discorso del terrore in massa non meno che di fronte ad un virus microscopico incapace di far altro che infettare polmoni già marciti da un inquinamento estremo voluto dal progetto moderno di unificare il mondo attraverso il commercio il commercio ha necessitato lo sviluppo dell'industria non ultima quella delle tossine farmacologiche al fine di trasformare il mondo delle nazioni in un mercato globale e l'uomo nel contempo in merce di scambio e consumatore il cannibalismo globale ha ridotto insomma i popoli moderni dei rottami intellettuali e morali nonché fisici su di essi oggi si erge il salvatore del mondo replica secolare del Cristo medievale un governo mondiale armato di esperti e proiettili entrambi costituenti ufficialmente l'orgoglio della nazione americana nella guerra contro la morte confruttarsi con la morte è una scelta classica già Dante la invita dichiarandosi poeticamente in guerra con entrambi i sensi della morte quella popolare o profana e quella religiosa o sacra la morte del corpo e la morte morale quella della memoria e quella della finalità del senso ultimo di Dio Dante sceglie l'essere al non essere ribellandosi alla morte di entrambi l'uomo e il suo Dio dunque della coscienza del pensiero non accetta la sconfitta dell'essere la nostra classe dominante sembra concordare in linea di principio ma Dante la dichiarerebbe folle nel voler sconfiggere la morte come straniero che ci si rivela nella persona di un virus alieno per il difensore del buonsenso il coronavirus non è la peste ed anche qualora lo fosse come sembra a colori quali abituati a dissiparsi nel presente storico rigettano ogni avviso lungimenante nessun coronavirus giustificherebbe una ritirata del popolo dalla sfera pubblica se Dante si ritira lo fa come Boccaccio nella riflessione poetica esiliato per penetrare al cuore della morte per riscoprire la vita non come imposizione sulla morte ma come figlia della morte frutto giustificato solo in quanto richiamo al senso della morte non ha bisogno il nostro di pallottole ed esperti per confrontarsi con la morte ma di virtù eccellenza morale ed intellettuale la guerra la guerra di Dante consiste in un confronto diretto non mediato con la morte nella misura in cui l'uomo si scopre essere la mediazione stessa la sola di cui abbiamo bisogno per lottare con eroica onestà l'uomo trasportato nella riflessione poetica è un essere immuno alla morte come la musa beatificante del secondo canto dell'inferno prendete cura di voi ci ripetono i mass media certo prendiamo cura di noi ma questo per Dante non significa vivere mediati dai nostri padroni significa al contrario vivere con buon senso sostenuti dalla ragione classica dal discorso radicato nell'aldilà rispetto all'impostura alla mera e nuda sopravvivenza la peste impera? la peste come volto della morte? la morte impera dunque? ebbene sì ma non è una novità resta da scegliere se nascondersi dalla morte nelle braccia dei nostri padroni o al contrario confrontarsi con la morte armati di buon senso e ragione due risposte incompatibili una tecnologica l'altra poetica una moderna l'altra propria dell'antichità classica l'una anti-umanista l'altra riscattante l'umano e il rapporto intimo con il divino non si tratta per il classico di una scelta di massa ma di una scelta dell'eroe dell'onesto indipendente dal belare dei greggi come dallo sbraitare di lupi se poi oggi la scelta classica ci è negata dalla tecnocrazia di massa il buon senso stesso sostenuto dalla ragione antica non ha che una risposta alla tirania la ribellione solida ferma indomita animata da quello spirito ciceroniano che solo giustifica e garantisce il nostro essere civile il nostro dimorare et mente et corpore nella sfera pubblica grazie